Nuovo appuntamento settimanale dedicato alla rubrica nutrizione e benessere curata dal dottor Andrea Ricci che oggi ci parlerà del burro. Dottori allora perché mangiare il burro e poi le proprietà di questo alimento? Sì allora il burro è un prodotto alimentare che per tanto tempo è stato un po' demonizzato quasi si invitava ad eliminarlo completamente dalla dieta. In effetti è un prodotto con delle caratteristiche importanti però se utilizzato con una certa moderazione e intelligenza alimentare è qualcosa che ogni tanto ci possiamo concedere. Come si ottiene? Dall'estrazione della crema dal latte e poi la successiva trasformazione della crema in burro vero e proprio. Ovviamente la normativa di legge dice che un burro per considerarsi tale deve contenere almeno l'80% di grassi ma esistono anche dei burri con un contenuto di grassi ridotto o a basso contenuto dei grassi. Poi c'è il burro anche quello chiarificato in cui viene eliminata la parte acquosa e quindi aumenta la frazione lipidica, aumentano anche le calorie però è totalmente privo di lattosio e assume un colore anche un po' più giallino rispetto a quello classico che è un po' più bianco e contiene anche se in minima parte comunque delle tracce di lattosio. 100 grammi di burro apportano 758 calorie quindi un numero importante di calorie però ad esempio rispetto all'olio che è l'altro condimento che utilizziamo di più soprattutto nelle nostre zone ne contiene di meno quindi è un numero inferiore di calorie però ovviamente non ci possiamo fermare solo al numero di calorie ma vedere anche com'è la composizione di questo prodotto e in effetti è composto quasi esclusivamente da acidi grassi saturi però una parte di questi acidi grassi saturi è composto da un acido ostearico che si chiama in questo modo e viene trasformato nell'organismo in acido elico e l'acido elico sappiamo che comunque apporta dei benefici come soprattutto a livello lipidico quindi tende a diminuire i livelli di colesterolo e ad aumentare anche quello di colesterolo buono quindi l'HDL. Il burro ha comunque soprattutto quando lo consumiamo a crudo un'alta digeribilità cosa che non viene invece quando lo andiamo a cuocere ovviamente non è adatto per friggere perché ha un basso punto di fumo. Contiene sali minerali e vitamine solo in tracce quindi non sono apprezzabili tranne la vitamina D che invece è importante soprattutto per la salute delle ossa e per il sistema immunitario. In commercio troviamo anche la margarina che differenza c'è tra il burro e quest'altro alimento? Sì allora la margarina ovviamente è di origine vegetale quindi sono essenzialmente acidi grassi vegetali però rispetto al burro possiamo dire che è un prodotto di qualità inferiore comunque viene sottoposta a differenza del burro a dei processi di idrogenazione quindi diciamo tra i due è sicuramente preferibile il burro. Ecco quanto fanno male questi prodotti se se ne fa un consumo eccessivo? Sì chiaramente l'altro aspetto del burro è soprattutto legato al colesterolo però anche qui un po' come abbiamo visto per le calorie dobbiamo dire che il contenuto di colesterolo del burro in 100 grammi è comunque inferiore a quello contenuto all'interno di un uovo però è chiaro che in dei soggetti soprattutto chi soffre di iperlipidemia o ha il colesterolo già alto ovviamente si consiglia sempre di escludere se non di limitare moltissimo l'utilizzo del burro cosa che invece non è detto che debbano fare chi ha un'attività fisica per esempio molto intensa o i ragazzi un po' a colazione oppure per merenda può essere un'ottima scelta ricordando che comunque la porzione è tra i 5 e i 10 grammi da consumare comunque esattuariamente. Bene dottore grazie per i consigli grazie anche ai nostri telespettatori per l'attenzione l'appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere torna la prossima settimana.